E' stata celebrata domenica la festa maggiore del gremio degli autoferrotranvieri, il più giovane dei 13 gremi cittadini creato nel 1938, il cui patrono è San Cristoforo, protettore di pellegrini, motoristi, ferrovieri e tranvieri. La chiesa di Santa Maria di Bethlehem ha ospitato al mattino la cerimonia dell'intrego, che ha visto il passaggio della bandiera dell'obriere maggiore uscente Angelo Piras a quello nuovo Nino Piras. A causa del maltempo in serata non si è invece svolta la processione. Il gremio degli autoferrotranvieri non sfila la farà dalle 14 agosto, pur facendo parte dell'inter gremio, ma ha un suo candeliere di colore marrone e con l'effigie di San Cristoforo disegnata sul capitello e sul fusto, dove ci sono anche un pezzo di binario, una ruota di treno e uno pneumatico, i simboli del sodalizio. La bandiera invece è rossa, con l'immagine ancora una volta di San Cristoforo.